Eccoci qui di nuovo, abbiamo incontrato per la terza volta, noi di TG Italia, di nuovo il signor Kim Jung Jan Lo so che qua c'è il microfono, dica cazzate, io sono molto qualificato in questo lavoro Scusate, sono praticamente io, sono quello che gestisce, c'è anche qua, sono quello che gestisce la, vado avanti Allora, ma cosa la porta qua in questo paesino di montagna? Davvero? E poi? Interessante E qualcosa cosa mi può dire del suo giro Quosa sale succedendo? Ah, quindi era lei e lei chi era? Io ero qui, essere qui e non fare nulla, ma lui non è Capalezza. Per favore signor Capalezza cosa fai? Lascia in pace il signor Kim Jongil, la prego. Eccomi. Allora, cosa ti fai qua in bici? Te? Si. Se ne puoi andare, per favore, mi da fastidio sentire questa presenza. Se ne vado signor Capalezza, la sua intervista ce l'ho già fatta. Non fare questa mia sala cinese, io dove la chiedo un'intervista. Io non fate finta nulla. Cosa le pare di questa natura? Eh? Di questa natura così fertile. Eh? Natura fertile. Cosa ne pare? Ecco. Dei graffiti bellissimi? No. No. Quello no. Adesso non so cosa proprio dire. Mi passissi da parte signor Capalezza. No, io volevo fare l'intervista. Allora va bene, allora chiudiamo l'intervista. No, non la chiudiamo l'intervista. Adesso no. Chiudiamo l'intervista assolutamente. Perché no. Io adesso metto a fuoco il suo occhio. Dobbiamo chiudere l'intervista, per favore. Ma perché dobbiamo chiuderla, è così bello? Mi canzo di rispetto. Io... Io sono quella qua eh. Voi non mi...